Sono molto contento di incontrare la rappresentanza di giovani. Vedete, signori, si crea un'occasione un po' strana, no? Come dire, si celebrano le assunzioni pubbliche. L'Inps incontra la cittadinanza di Torino. È il titolo dell'evento organizzato dalla Direzione Provinciale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ospitato nella sede aulica della città metropolitana. Dopo i saluti del vice-sindaco della città metropolitana di Torino, Marco Marocco, e del presidente del comitato regionale Inps Piemonte, Francesco Lattona, si sono susseguiti gli interventi del direttore provinciale dell'Inps di Torino, del sociologo Roberto Cardaci, del direttore regionale dell'Inps Giuseppe Baldino, del presidente di Confesercenti Piemonte Giancarlo Banchieri e del direttore della Caritas Diocesana di Torino, Pierluigi Dovis. All'incontro, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti di enti e associazioni, è intervenuto il presidente nazionale dell'Inps Pasquale Tridico. L'occasione si è rivelata utile per fare il punto sugli interventi che l'ente previdenziale sta realizzando a favore dei cittadini in situazioni di marginalità sociale e sulle cause che determinano tali situazioni. Ma in quanto dal punto di vista sociologico è che la povertà ormai è pervasiva di tutti i ceti e diciamo che i cittadini che sono in condizione di bisogno li possiamo dividere in due categorie. Quelli che sono proprio le fasce deboli, che hanno proprio bisogno di un'assistenza che però deve essere a miglior livello qualitativo e quelli che invece sono in quella che viene definita la sofferenza del lavoro, cioè la mancanza di lavoro a cassa integrazione e quant'altro. Per questi occorre davvero cominciare a creare dei progetti strategici e strutturali creando il più possibile con tutte le forze presenti nei territori delle opportunità perché possano entrare nel mondo del lavoro. La situazione in questo momento, soprattutto nel nostro contesto territoriale richiede una capacità particolare di prossimità da parte di tutti i soggetti che lavorano nel sociale ma anche delle istituzioni che hanno, come ad esempio l'Inps, un compito a mio giudizio di accompagnamento delle persone ma anche dei processi che stanno all'interno della nostra società e che sono in grado in qualche modo di rendere le persone più attive all'interno del percorso del proprio riscatto. Penso alle persone povere, ma penso alle persone che hanno abbandonato il circuito lavorativo per tanti motivi, penso a chi non riesce a entrare nel circuito lavorativo piuttosto che agli stranieri che non sono tutelati o a altre categorie di cittadini che hanno tutele molto scarse. In particolare il Presidente Teridico ha ricordato l'importanza della convenzione stipulata con le grandi città, compresa Torino, per la realizzazione del progetto Inps per tutti. Gli individui di cui parliamo molto spesso hanno una cosiddetta barriera architettonica burocratica, non sanno nemmeno che cosa sia un ISE o un CAF, quindi non fanno mai nessuna domanda e non esigono i loro diritti, ma le risorse ci sono. Lo Stato e la Repubblica li ha messi a disposizione, noi come istituzioni, quindi l'Istituto insieme ai comuni laddove è presente, scende tra la gente, va nel territorio, fa lo screening di queste persone e elargisce le prestazioni previste dalla legge.